La data da segnare sul calendario è quella del 30 novembre, giorno in cui il popolo piceno del PD voterà nelle primarie per scegliere il candidato alla presidenza della provincia di Ascoli. Uno scossone politico è però arrivato ieri dalla festa del PD nella ballata del Tronto. Il vicepresidente della provincia, Emilio Mandozzi, ha ufficializzato la sua candidatura, sostenendo che stavolta, rispetto al 2004, a decidere saranno i cittadini. Noi abbiamo scelto un metodo di partecipazione, vogliamo coinvolgere i cittadini per scegliere le candidature da sottoporre alla coalizione per poi scegliere il candidato che si presenterà alle prossime elezioni amministrative della primavera prossima. Con la sua candidatura Mandozzi ufficializza anche la rottura ufficiale con il presidente Massimo Rossi, segnalando la diversità di vedute su argomenti come l'arretramento dell'A14 o la gestione del personale della provincia. Ma i dissapori in giunta nascono solo quando bisogna andare alle urne o esistevano già da tempo? Da noi due anni fa i partiti del centro-sinistra hanno chiesto una verifica all'amministrazione provinciale. In quella verifica i punti erano appunto quelli che ancora oggi sono divergenti. La viabilità, le infrastrutture, la funzione della provincia che deve essere quella di coordinamento, non di gestione. La gestione deve aspettare i comuni. Quindi noi questi temi oggi sono ancora sul tavolo e li vogliamo riproporre perché pensiamo che il modello della nuova provincia, noi non parliamo più della provincia di Ascoli e Fermo, qui stiamo costruendo una nuova provincia.